Rivelazioni Shock, Uomini e Donne diviso in fazioni Il ritorno esplosivo del Gemma D, Gemma Galgani torna protagonista indiscussa di Uomini e Donne con il suo giorno dedicato, il Gemma D, tanto amato dai telespettatori. Dopo un periodo in cui il programma ha dato spazio ad altri partecipanti, è ora il momento di concentrarsi nuovamente su di lei, una presenza unica e inimitabile. Tuttavia, con il ritorno di Gemma, arriva anche l'attacco di Tina Cipollari. Sebbene in passato sembrasse quasi amichevole nei confronti di Gemma, ora Tina torna alla sua consueta verve critica, in un episodio che vede la partecipazione di entrambe durante il Gemma D. La Galgani si ritrova al centro dell'attenzione con la sua nuova conoscenza con Claudio, una storia che ha già attirato l'interesse delle telecamere e che oggi viene confermata come positiva. Nel frattempo, Tina Cipollari scherza con i suoi «occhiali magici», affermando ironicamente che permettono di vedere le persone nude. La puntata del 18 marzo 2024 di Uomini e donne prosegue con Ida Platano, che ha scelto di avere un'esterna solo con Mario. Tina continua ad attaccare il corteggiatore, manifestando una crescente diffidenza nei suoi confronti e sostenendo che stia solo recitando con Ida. La situazione si complica quando Pierpaolo esprime il suo dissenso riguardo al comportamento di Mario nei confronti di Ida, sottolineando un cambiamento nel comportamento della tronista da quando Mario è tornato. La tensione aumenta e scoppia uno scontro tra Mario e Pierpaolo, con quest'ultimo che afferma di poter essere un fastidio per Mario. Il nuovo tronista, Daniele, interviene per difendere Ida, consigliando ai corteggiatori di non litigare per non confondere la tronista. Nonostante Ida fermi di non sentirsi confusa, è chiaro che lo scontro tra Mario e Pierpaolo avrebbe potuto prendere una piega più grave. Nel frattempo, nel centro studio di Maria De Filippi, Cristiano si trova al centro dell'attenzione, mentre si sta conoscendo con Jasna e Loredana. La situazione si complica quando Aurora Tropea interviene e critica ancora una volta Cristina Tenuta, la quale sta perdendo credibilità agli occhi dei telespettatori. La discussione si infiamma, con Cristina che replica le critiche e il pubblico che nota l'ironia della situazione. Mentre si conclude la puntata, il percorso di Daniele come tronista continua, nonostante il suo carattere presuntuoso abbia suscitato qualche critica. Tuttavia, Daniele chiarisce che ciò che si vede è solo una parte di sé e invita chi lo conoscerà meglio a giudicare in modo più equo.